Evasione di 71 milioni di euro e dimissioni di fatture false per oltre 70 milioni di euro sono i numeri delle frodi scoperte nello scorso 2016 dalla Guardia di Finanza in provincia di Sondrio. Le operazioni che hanno permesso di scopercare diverse reti illecite, denominate Trick Power, Fantacop e Castelli di Carpa, non sono però le uniche attività di contrasto all'evasione fiscale eseguite dal comando guidato da Massimo Colucci. Fondamentali le azioni di verifica degli esercizi, 220 quelle effettuate che hanno permesso la denuncia di 79 persone per dichiarazione fraudolenta, con oltre 46 milioni di euro. Più di 58 milioni di euro sono stati invece il profitto di dichiarazioni infedeli e omesse. Infine altri 81 milioni di euro derivano invece da emissioni di fatture per operazioni inesistenti. 42 gli evasori scoperti totalmente sconosciuti al fisco e 67 i lavoratori nero e irregolari individuati. Sul fronte della spesa pubblica sono stati controllati i contributi per oltre 500 mila euro nel settore degli aiuti all'agricoltura, nel quale sono stati intercettati più di 400 mila euro indebitamente richiesti o percepiti. Sono invece 11 le persone segnalate dall'autorità giudiziaria per aver percepito indebitamente indennità di disoccupazione o pensioni per un totale di 175 mila euro. Sempre proficua l'attività anticontrabbando nel settore doganale, sia nei vari che di Piatta Mala, Villa di Chiavenna a Foscagno, che tramite le pattuglie ridosso della linea di confine, che ha permesso di sequestrare 180 articoli, di cui 59 chili di tabacchi ed oltre 63 mila euro di tributi e vasi. Ben 372 mila i prodotti contraffatti o non sicuri e sequestrati, principalmente nel settore dell'abbigliamento e dei suoi accessori, con la denuncia all'autorità giudiziale di 21 persone e l'effettuazione di 74 sanzioni amministrative. Sempre efficace, si è dimostrata l'azione svolta in montagna da tecnici del Zagfo di Bormio, Sondrio e Madesimo, che nel 2016 hanno portato a termine oltre 325 soccorsi, con 276 persone recuperate, oltre all'effettuazione di 29 informative all'autorità giudiziaria per altre tante attività di indagini di polizia giudiziaria eseguite.